Siamo al Teatro di Montemaggiore per intervistare Ivan Cottini e una sua amica che lo ha coinvolto in una nuova iniziativa importante, naturalmente sempre divulgare un messaggio per attirare l'attenzione e focalizzare i media su questo aspetto Ivan. Sì, è importante su due temi, uno è il fatto del calendario, il raccogliere fondi per aiutare i malati di sclerosi multipla e le loro famiglie nella zona degli ospedali dove è la mia compagna di avventura di oggi, la IUD di zona di Vicenza e la seconda grossa importanza di questo progetto è il messaggio che vuol portare, visto che con le immagini più belle di oggi ci vuole fare proprio una mostra che girerà per tutta l'Italia. Il messaggio è molto forte che comunque chi sta male non deve chiudersi, non deve nascondersi ma deve fare come facciamo noi oggi, anche sulla sedia a rotelle, malati, veniamo qui, ci esibiamo, ci mettiamo in mostra, facciamo un calendario. E quindi ecco, non rinchiudersi e non fare sì che la propria condizione sia una gabbia nella quale chiudersi e che spesso infrastrutture e società tentano, società soprattutto, tentano di racchiudere. La malattia si vive male soprattutto nella società, non è capita, non è accettata forse neanche dai parenti più stretti, cioè diciamo la verità, viene identificata come veramente un handicap e ci vedono come un marchio. Siamo invalidi, abbiamo un'etichetta, non è un discorso di essere solo invalidi, ma è essere un'etichetta, un'etichetta nel mondo lavorativo e un'etichetta nella società soprattutto. Come ti è venuto di coinvolgere Ivan in questa cosa? Beh, tutto è nato per scherzo, diciamo che prima di tutto, io avendo già un figlio disabile, ho sempre voluto fare questa iniziativa già prima che mi ammalassi, nel 2009 ho cominciato i primi sintomi e nel 2013 la diagnosi. Ho conosciuto Iva sul social network così per caso e da lì è nata una bellissima amicizia perché è una persona speciale. Il calendario sarà disponibile dal 6 di novembre in poi al costo di 10 euro nelle edicole che aderiranno a questo progetto e anche nei gazebo messi in piede dall'associazione contro la sclerosi multipla. Sindaco, una pagina comunque di solidarietà alla quale voi non volete mancare? Assolutamente sì, Montemaggiore sul discorso della solidarietà e del sociale per quello che può è sempre presente e siamo ovviamente ben contenti e lieti di ospitare oggi Ivan e questa sua amica di Vicenza per la realizzazione di questo calendario. Ecco, gli scatti ritrarranno le sensazioni mese per mese che Ivan e la sua partner esprimeranno appunto dal teatro di Montemaggiore. Grazie a tutti!